Not this way 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 Eeeh Ben a tutti ragazzi C'è iFlex che vi parla Ed oggi siamo Tornati in un video che vi è piaciuto Davvero davvero tanto Siamo tornati nella seconda parte Dei 5 crafting segreti Che forse non conosci Ci tengo a precisare Prima che inizi il video Che Eeeh Che Alcuni di voi Li conosceranno sicuramente Questi crafting Ma alcune persone Non li conosceranno Quindi non diamo nulla Per scontato Come sempre Eeeh Poi ci tengo anche a dire una cosa Per chi avrebbe Già visto la prima parte Che ho fatto Quella parte Non è stata copiata Da nessuno Youtuber italiano E sta Quello la è stato un video Che ho tradotto Da un video Americano E l'ho portato in italiano Io non è che sapevo Se l'ha fatto Tizio L'ha fatto Caio Io non posso sapere Tutti i video Della community italiana Quindi io ho visto Questo video Da questo youtuber americano Ho anche messo il link In descrizione E niente Quindi Ci vediamo Con il primo crafting Quindi nel primo crafting Andremo a craftare Il granito Per fare questo crafting Abbiamo bisogno Della diorite E del quarzo Però prima di tutto Dobbiamo mettere L'altro tipo di crafting table Comunque ricordo Che sono dei crafting Su minecraft console Perché ci saranno Anche su minecraft pc Ed ecco qua Il granito Che viene craftato Con questi due blocchi Sinceramente Quando ho scoperto Questo crafting Io ho detto Ma what the fuck Perché io non lo sapevo Assolutissimamente Quindi ecco qua Il primo crafting Quindi abbiamo scoperto Che il granito Può essere craftato Nel secondo crafting Andiamo a craftare L'andesite Usando la diorite E la cobblestone Quindi andiamo subito Però ora vi farò vedere Una piccola novità Con questo crafting Ci daranno due blocchi Di andesite Invece abbiamo visto Che prima Ci hanno dato Un blocco di granito Anche perché Vi spiego Perché qui noi Per fare questo crafting Abbiamo bisogno Di due blocchi Mentre prima Abbiamo bisogno Di un blocco Più la polvere di quarzo Quindi ecco qui Svelato Perché qui danno Due blocchi E prima ce ne hanno dato uno Quindi allora ragazzi Vediamo nel terzo crafting Nel terzo crafting Andremo a craftare La zuppa Di coniglio Questa zuppa Ci darà 5 di saturazione Una ricetta Ben conosciuta Però Quando io l'ho venuta A sapere Non Non la conoscevo Quindi ve la farò Vedere Anche a voi Allora Dobbiamo mettere La ciotola Qui in basso Poi La carota A sinistra Scusate per il telefono Mi sono dimenticato Di togliere la suoneria Ok E mentre Il Il coniglio cotto Va messo qui in alto Ed ecco qui Lo stufato di coniglio Secondo me Non conviene molto Si che c'era 5 di saturazione Però già prendiamo La carne cotta La patata cotta La carota Secondo me Non conviene Comunque Ci vediamo nel quarto crafting Nel quarto crafting Andiamo a craftare La diorite Per farlo Abbiamo bisogno Due blocchi di ciottolo E due Pezzettini Di quarzo Ovviamente Ancora polvere Di quarzo Quindi il ciotto Dobbiamo mettere In questa posizione Mentre il quarzo Così Abbiamo due blocchi Di diorite Quindi ora raga Ci vediamo Nell'ultimo crafting E adesso raga Andremo a vedere Il quinto E l'ultimo crafting Andremo a craftare La terra grezza Che si trova Nel bioma Della mega taiga Quindi non Cioè Oltre che la possiamo Prendere Possiamo anche Craftarla Vabbè L'italiano Non lasciamo lo stare Che è sempre presente Allora mettiamo la ghiaia Così E mentre la terra Così Ed abbiamo Quattro pezzettini Di terra grezza Così possiamo craftarla Anche perché È un blocco Per fare anche i sentieri Quindi raga Per questo Video è tutto Ricordi di lasciare Un like Un commento Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Passate alla pagina telegram Che la troverete Sotto in descrizione E niente raga Daiflex È tutto Bella